Una partita di calcio amichevole per ricordare con il sorriso chi non c'è più, chi lotta contro un malo oscuro e sensibilizzare alla donazione del midollo osseo. Questo l'intento del quarto memorial Antonino Scimè, organizzato dalla sezione nissena dell'Admo, l'associazione donatori midollo osseo, che si terrà domenica 15 maggio a partire dalle ore 19. Familiari e amici ricorderanno così Tony, come affettuosamente lo chiamavano, scomparso il 9 maggio del 2012 all'età di 17 anni, dopo aver combattuto per oltre tre anni la sua battaglia contro il linfoma di Hodking. I volontari della sezione nissena dell'Admo, nata nel 2011, saranno presenti con i loro stand per fornire informazioni sulle donazioni del midollo e raccogliere eventuali adesioni. Questa sarà una giornata dove si ricorderà un giovane, nello specifico un ragazzo che ha subito le gravi conseguenze di una malattia oncologica. Quindi questo è il punto cardine, oltre che proprio il memorial in sé, per ricordare un po' tutti i giovani ragazzi, quindi parliamo proprio bambini, giovani e bambini, siano ad un'età adolescenziale che sono appunto affetti o lottano una battaglia contro una malattia oncologica. Quindi questo sarà anche un'occasione per parlare dell'Admo, quindi associazione donatori midollo osseo, proprio per informare la popolazione non solo sulla nostra sede nissena, ma per donare appunto informazioni sulla tipizzazione, quindi sul fatto di poter fare un semplice prelievo di sangue per essere inseriti nel registro mondiale. Chi può donare e come si può fare per donare? Possono donare i giovanissimi, quindi i ragazzi da 18 ai 35 anni di età. Una fascia appunto di età giovanissima perché le cellule sono in questa fase molto attive, molto più giovani e quindi sicuramente più in grado di combattere una malattia oncologica in fase di sviluppo. Ovviamente i requisiti basilari sono quelli di avere un buono stato di salute, non superare questa fascia di età, non avere ovviamente malattie di tipo ematologico, ovviamente oncologico. Ricordiamo comunque che prima di effettuare questo semplice prelievo di sangue viene sempre fatto un questionario col medico di base, quindi in questo caso su prenotazione al reparto trasfusionale di Galtanissetta. Grazie a tutti.